ciao giampaolo e volevo farti le congratulazioni per questa laurea onoris causa all'università del molise penso ovviamente che sia più che meritata ho avuto la fortuna durante la mia carriera di conoscere tanti personaggi del mondo dello sport e credo che tu abbia dimostrato in tutti gli sport in cui sei stato presente in passato e ovviamente nel presente adesso nel golf tutto il tuo valore per cui congratulazioni ancora un abbraccio a tutti spero di vederti presto